9 persone al giorno muoiono a causa degli incidenti stradali, molti sono bambini e giovani. Imprudenza e condotte di guida pericolose mettono a rischio l'incolumità delle persone che viaggiano sulla strada. In molti casi gli incidenti accadono per il mancato rispetto dei limiti di velocità che possono causare la perdita di controllo del veicolo e gravi conseguenze, conseguenze che peggiorano con la pioggia, la neve, il ghiaccio, condizioni che rendono la strada ancora più pericolose. E in un mondo sempre più connesso è il telefono cellulare, la principale distrazione per automobilisti e pedoni. Ma la distrazione di un secondo può essere fatale. La lucidità che occorre per guidare in modo sicuro è spesso messa a repentaglio dall'abuso di alcol e droghe che alterano la percezione della realtà con conseguenze spesso imprevedibili. Certo non bastano le sanzioni, occorre maturare una nuova consapevolezza dei nostri limiti, occorre maturare una nuova consapevolezza del valore della vita. Per questo la sicurezza stradale deve nascere sui banchi di scuola. La prevenzione resta lo strumento più efficace. E fare prevenzione insieme può fare la differenza. Per questo la sicurezza è un'altra parte. E fare prevenzione insieme può fare la differenza. Per questo la sicurezza è un'altra parte. E fare prevenzione insieme può fare la differenza.